Ciao Leone, bentornato. Oggi è martedì, 29 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Leone. Martedì senza infamia e senza lode. Né merito né demerito a questo martedì nel vostro cielo, passa quasi indifferente. A parte la solita quadratura di Urano alla quale Mercurio fa eco dallo Scorpione, sul traffico planetario nel vostro cielo non si segnalano particolari criticità, ma nemmeno bonus incoraggianti. Vero, come ormai da mesi a questa parte potete contare sul sestile di Giove, in caso di difficoltà, anche pecuniaria, un amico vi darà una mano. La luna in vergine opposta Nettuno, infatti, vi parla di risparmi, rimproverandovi di qualche spesa incauta, causa di falle dalle quali dovrete subito rientrare. Anche il mutuo pesa un po', ma se vi siete aggiudicati una bella casa a prezzo conveniente potete complimentarvi per il vostro buon fiuto. Stabili ma non esaltanti gli affetti con venere focosa intrigono, perché a frenarne l'impeto passionale provvede Saturno con una quadratura che fiacca il desiderio e spedisce l'eros all'ultimo posto in classifica, insieme alla sportività di Marte castigato in dodicesima casa. Una svolta decisiva in amore che può essere la costituzione di una nuova coppia o il consolidamento di una nata in precedenza. Un colpo di fulmine, un amore che sboccia improvviso e dirompente. Le persone che incontreranno i single saranno motivate, giuste, equilibrate e potrebbero essere realmente interessati a un rapporto di coppia. Fuggite i pettegolezzi e le dicerie, ricordate che basta poco a complicarvi la vita. Alcune persone tramano contro di voi e approfittano dei vostri passi falsi. Avrete voglia di distrarvi, se potete fatelo con la persona a voi cara organizzando qualcosa di carino e fategli una sorpresa. Vi sembra che ognuno reclami un pezzetto di voi, è un periodo in cui non provate e non trovate pace. Forse è il caso di staccare la spina per qualche tempo e fare in modo che gli influssi negativi di alcuni pianeti si allontanino. Nessuna fretta nelle decisioni, notizie importanti e inattese potrebbero volgere situazioni a vostro favore. Quindi nel vostro interesse prendete opportunamente tempo. Giornata molto produttiva, con grosse soddisfazione e soprattutto per i nati di martedì e mercoledì. Buona opportunità per qualche incontro nuovo e interessante. Oggi ponete molta attenzione al vostro bilancio economico, sarà bene rivedere qualcosa per carcare di risparmiare di più. Oggi potrebbero materializzarsi delle spese impreviste per l'auto, nulla di preoccupante ma potrebbe esserci una spesa imprevista. Oggi la vostra attenzione dovrebbe concentrarsi sullo stile di vita che conducete, tutto sembra rincorrervi e non vi sentite al centro della vostra vita. Bene i rapporti con amici, oggi troverete modo di farvi notare anche da chi. Non vi ha mai concesso attenzione e considerazione. La Luna e Venere si ritrovano ancora tutte e due favorevoli per il vostro segno tra Leone, Vergine e Sagittario, per comporre per voi un concerto dai toni trionfali. Questi pianeti in transito si occupano di farvi apparire smaglianti e calorosi con il prossimo. Altri corpi celesti vi danno la grinta e la determinazione tipiche dei capi. I pianeti contrari sono adesso Sole, Mercurio e Urano, tra Scorpione e Toro, specie se siete nati in agosto. Converrà non farvi coinvolgere in questioni che prevedono prese di posizione nette e immutabili. Uno stato di salute discreto è comunque assicurato sempre da Venere in angolo favorevole. La tonicità dei muscoli è eccellente. Come re della foresta apparite piuttosto spelacchiati, sgarruppati, effetto di Marte in dodicesima casa che vi sottrae energia mentre Urano allo Zenit in quadratura, in conflitto con Mercurio, vi vuole insofferenti, insonni e magari anche rauchi. Ma dove sarà andato a finire il vostro potente e ruggito. Nessun problema, non appena vedrete comparire Venere la bella in sagittario, focosa in trigono, di colpo vi rianimerete. Anche gli amici, alias Giove in se stile, contribuiranno a tirarvi su. E se in famiglia proprio non gira ci sono sempre alternative esterne a cui fare gli occhi dolci. Il vero problema non è il cuore ma il portafoglio, con la luna in vergine sparagnina bersagliata da Saturno e Nettuno non vi potrete permettere la consueta grandeur. Il lavoro con Plutone in sesta casa c'è ma la remunerazione è scarsa, decisamente inadeguata rispetto al vostro valore. Amore ed Eros. In famiglia qualche scontro c'è, meglio così del resto che tenersi tutto dentro e farsi venire l'ulcera. Sono più che altro i vostri e i suoceri a creare scompiglio, con il partner andate d'accordo e i vostri figli sono una delizia. Bella serata trascorsa con gli amici, magari a casa vostra dove vi dilettate a stupire indossando il cappello da chef. Ci riuscirete solo a metà, qualcosa non viene alla perfezione ma gli altri sdrammatizzano scherzandoci su. Un brindisino e sarà tutto dimenticato. Lavoro e denaro? Lavoro importante, vi appaga nella forma ma non nella sostanza, per quello che sgobbate che date la remunerazione è davvero iniqua. Ecco perché vi ritrovate con rate pesanti e debitucci da saldare rapidamente. Provare a giocare qualche numero all'otto non è una cattiva idea, se il karma ha deciso di premiarvi vi aiuterà con un terno secco. Altrimenti dovrete accontentarvi di un paio di biglietti da 10 a malapena sufficienti per un vassoio di pasticcini. Benessere. Nervosismo e stanchezza evidenti, a meno che non riusciate a mascherarli con bel vestito, un trucco sapiente e soprattutto con il vostro ineguagliabile self-control. Appetito scarso ma è bene così, la società occidentale mangia fin troppo, a discapito di quella parte del mondo che muore di fame. Ma qui non è solo una questione di giustizia sociale, anche di salute, un'alimentazione parca, biologica e naturale garantisce longevità e anche la pelle ci guadagna. Un filo di tosse non sarà la fine del mondo, con il favoloso vin brulè della nonna passerà. Per lei, non lamentatevi se la giornata è piatta, la rimpiangerete quando avrete un diavolo per capello e un peso sul cuore, meglio la minestra scipita che troppo salata. Il sale infatti si può sempre aggiungere, eliminare no. Per lui, la vita spericolata è l'ultimo dei vostri pensieri, oggi cercate soprattutto stabilità economica ed emotiva, solo quando si è davvero tranquilli si possono vagheggiare follie. Colore delle emozioni, beige. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.